Ogni giorno tutti costruiamo il mondo Ogni giorno anche chi non lo sa Quanto movimento che c'è tutto intorno Ciao a tutti, mi chiamo Federico Viviani e sono un professore di lettere e un cantatore fiorentino Al meeting quest'anno presenterò dal vivo il mio album Storie Allegre ma non troppo Le 11 canzoni che compongono l'album sono molto diverse tra loro Nei contenuti e nei generi, pop rock, reggae, melodico Ma hanno in comune la voglia di osservare e raccontare la vita che scopro intorno a me e dentro di me Già tutti al lavoro Già tutti a inseguire un sogno, un'opportunità Ma le mie canzoni nascono dal desiderio, dal bisogno di incontrare l'umanità che si nasconde dietro ogni volto Da quelli più cari a quelli apparentemente più lontani Così una canzone racconta di una prostituta, una di un amore in crisi Un'altra di una persona incatenata dietro ai piccoli e grandi schermi della nostra bella rivoluzione tecnologica Tutte periferie ma in cui è ancora possibile trovare tracce di novità, di verità, di bellezza Per usare ancora le parole del Papa Ogni canzone racconta a modo suo la speranza che permette di stare di fronte a ogni circostanza della vita Senza bisogno di voltare gli occhi dall'attuale Il 28 agosto alle 22 all'area piscine Ovest Edison Se avete voglia di scoprire ancora qualcosa di nuovo nel mondo della musica italiana Venite a sentirci Insieme alla mia fantastica band Oltre a proporvi le canzoni del mio album Potremo ascoltare e cantare insieme canzoni della musica italiana Ed anche immergerci qua e là nella tradizione fettina Vi aspettiamo e vita in giro Grazie a tutti